e buonasera campesinos e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale io sono Enrique Farmer e oggi vi faccio in questo nuovo video tutorial prima di iniziare come se vi ricordo di iscrivervi al canale lasciamolo un viaggio e condividere i video siccome su instagram facebook e twitch tutti i link trovate in descrizione inoltre in descrizione trovate anche il link per comprare fs22 con il mio codice partner già inserito ovvero Enrique Farmer tutto maiuscolo inoltre vi ricordo anche di comprare qualche gioco scontato su istangaming visto che c'è il black friday il black friday avete possibilità fino al 29 novembre quindi fino a lunedì di trovare giochi scontati di più dal solito detto questo iniziamo con il tutorial come si fa ad inserire la musica su farming simulator 22 insomma ma se uno non ha spotify e uno non vuole avere spotify e aprire comunque cambia e basta o chiudi le finestre di farming per stoppare la canzone se non avete possibilità come il suo scritto deve i tasti per stoppare e ovviare la musica quindi ogni volta deve uscire dal gioco andare sul per fortuna io ho due schermi per cui su uno schermo massimo metto spotify nell'altro gioco quindi poi clicco nell'altro farming sul primo schermo principale si chiude poi vi rientra una cosa semplice però magari un po sbatti se uno vuole evitare questo cosa deve fare allora intanto deve andare su my games farming simulator 22 music vedete che io ho già inserito una canzone bene ho fatto una prova logicamente prima di fare sto video allora se voi volete inserire una canzone non dovete nient'altro che intanto se non c'erate già sul computer scaricarla da youtube o da dove volete io ho fatto video riguardo come scaricare le canzoni se non sapete come si fa ditemelo con un commento che magari ci porto un altro video tutorial fatto bene fatto meglio più che altro dall'ultimo in cui vi spiego bene passo per passo allora ovviamente metterò canzoni senza copyright comunque di youtube così che se anche mi partono poi poi devo farle partire in gioco per farvi capire come funziona non vado sotto possibili copyright insomma se possibili se ne aziono i copyright o comunque se non sono canzoni da youtube sono canzoni con il con di esempio ncs o comunque altre canzoni che io utilizzo di solito allora mettiamo una canzone di che utilizzo normalmente per i video di agricoltura reale un a caso e partirei che mi faccio così vai mostro ho fatto tasto da destra copia e incolla cioè molto molto easy la cosa ovviamente poi chiudete tutto e ovviamente penso ci debba chiudere che farmi quindi lo riserviamo anzi lo riserviamo e ci becchiamo in game bene ragazzi eccoci in game cosa molto molto veloce entrare stranamente vedremo quando ci sarà un bel po' di modo però spero quando ci sarà un bel po' di modo avere il computer bello più possente bello potente comunque ora appena avverrà il computer nuovo live streaming on twitch e youtube molto molto più spesso di ora ve lo promesso ve lo prometto allora intanto cosa dovete fare per avere la radio sia nel trattore sia a terra dovete andare in impostazioni questo qui andare giù e selezionare su radio sì e intanto messi per accenderlo ovviamente e raggio radio sempre personali in teoria di default è solo nei veicoli quindi se voi siete a terra non potete ascoltare la radio se uno vuole ascoltare la radio anche la terra basta che metta sempre poi andate qui col tasto numero 5 col numero 5 insomma lo avviate vedete e col numero 6 cambia la stazione praticamente 6 e 4 andate col 4 indietro e col 6 avanti vedete my radio parte la prima canzone che io ho inserito ok per schipparla non penso ci sia possibilità onestamente in teoria in pratica neanche lui poi segue il suo il suo scaletta quindi se volete avere una canzone prima di un'altra vi fa partire la l'altra canzone insomma poi date voi l'ordine delle canzoni e in base all'ordine che voi mettete lo mettete nella cartella intanto spengo dovrebbe vi fa partire le canzoni insomma che voi avete inserito quindi niente di che se voi inserite se voi inserite 20 canzoni e volete che ci sia la vendesima come prima appunto la mettete come prima lui ve la riproduce in base all'ordine con cui voi la inserite detto questo ragazzi per questo tutorial molto breve è tutto io vi spero vi sia stato utile vi ringrazio per la visione vi ricordo di iscrivervi al canale lasciando un mi piace condividere il video seguimi su isla facebook e twitch tutti i link li trovate in descrizione poi instagram in cui trovate scontati e abbonamenti comprare la FES22 del link in descrizione ovvero il link in descrizione il codice partner è Ricky Farmer tutto in maiuscolo ditemi con un commento se volete anche un video riguardante come togliere gli ad ovvero con l'altra destra il pollino per fare magari dei screen un po' più decenti non ci becchiamo prossimamente nemmeno commentino appunto disponibili nella domanda che vi ho appena posto ci becchiamo prossimamente e da Ricky Farmer è tutto al prossimo video ragazzi e ciao ciao